appassionati di meccanica bentornati con lo stego siamo qui al motor ad uno a feltre che si svolge sempre il primo di maggio guardate che gioiellino suzuki rg 500 gamma moto due tempi quattro cilindri adesso il proprietario ce l'accende guardate la disposizione delle marlite la fresca maserata no, a Quantico